e serie numero due alla partenza in corsia una manda ad otto stile libero alla due centronuoto Rosà, corsia tre Viola Tintinaglia Arcanuoto alla quattro Reana Franzo Caorle Nuoto, corsia cinque Laura Zanardo Natatorium Treviso alla sei Sara Doaro Centronuoto Rosà, sette Annalisa Francato Acquambiente alla otto Vittoria Centronuoto Natatorium Treviso